Inizia una rassegna alla quale io tengo moltissimo perché è basata su una straordinaria attrazione che ha presso i turisti la nostra gastronomia d'eccellenza. Abbiamo voluto mettere insieme esperti di cucina, chef ma anche filosofi, professori universitari, nutrizionisti, antropologi a parlare dei nostri piatti tipici, a raccontare la storia. Questa levitazione è lenta, ce l'hanno trasmessa le nostre nonne, le mamme perché è il caso di spiegare bene ai giovani che bisogna fare con amore, con impegno ma con forte passione quello che è l'arte della levitazione ed è proprio la volta del casatiello e del torto nonapoletano che sono degli elementi iconici della gastronomia partenopea.